Il mio intervento tratterà sull'Umbro e cercherò di porre prima la questione terminologica su che cosa sia l'italico e che cosa sia l'Umbro in rapporto alla questione terminologica di come definire l'italico. Vedremo che a secondo di come si è inteso il termine italico si è dato anche un'accezione particolare di Umbro che ha portato a vedere spesso la lingua Umbra in unione con quella osca. Sebbene, lo vedremo nel corso dell'esposizione, ci sono delle notevoli differenze tra le due, sebbene appartengano sicuramente ad una stessa famiglia linguistica. Il quadro sarà di parlare prima delle premesse e delle questioni terminologiche, poi di descrivere i caratteri generali dell'Umbro in quanto lingua italica e poi dell'Umbro in quanto lingua Umbra. Poi di fare una breve panoramica su dove si trovano attestate le iscrizioni in Umbro. Chiedo scusa, le iscrizioni in Umbro e successivamente si scenderà nel dettaglio di quali sono le caratteristiche dell'alfabeto Umbro che si avvale come modello da cui attingere segni dell'alfabeto etrusco e poi quali sono invece le caratteristiche della grafia Umbra che invece si avvale dell'alfabeto latino come modello di riferimento. Qualche panoramica su alcune epigrafi, ahimè non tantissime, visto che uno dei problemi dell'Umbro è proprio quello di non avere moltissime attestazioni se non la maggiore, più importante e nota rappresentata dalle tavole guvine che di fatto hanno un po' coperto le altre iscrizioni perché per lunghezza ovviamente nessuna di quelle ritrovate riesce a competere. E poi un po' di cenni su quali sono siti in cui oggi si può trovare qualcosa sull'Umbro e la bibliografia ad oggi insomma presente sull'Umbro. Allora, come introduzione vi dicevo insomma da fare appunto da fare questa premessa che ovviamente la trasmissione di un sistema di scrittura di un alfabeto da un'eternia all'altra è un fenomeno così complesso che non si può ridurre a semplici ed univoci schemi in quanto esso è soggetto a diversi fattori non facilmente prevedibili né chiaramente individuabili. Questa e la successiva saranno appunto le premesse metodologiche per affrontare insomma lo studio dell'Umbro. Anche qui le maggiori accelerazioni nell'evoluzione alfabetica si osservano proprio quando la tecnica scrittoria viene trasmessa a popoli di lingua diversa dal momento che in questa situazione si possono arrivare a sfruttare anche quelle potenzialità che il sistema in sé ha già, scusate ho mancato un H ha già ma che la conservatività delle scuole spesso limita non me ne sono la distrazione nel cancellare. A questo punto premesse questioni terminologiche. Quali sono appunto le definizioni correnti di Umbro? Da un punto di vista linguistico solitamente l'Umbro appunto viene definita come una lingua di tipo indoeuropeo che appartiene a quel gruppo linguistico definito italico. Solo che questa praticamente è una definizione che in sé portano pochi problemi. Il primo appunto è mettersi d'accordo su che cosa si debba intendere per italico in quanto qui appunto ci sono una serie di problemi perché per alcuni l'italico è solo quello dell'Italia centrale per altri insomma è un ramo dell'indo europeo ma ora vediamo nel dettaglio e l'altro problema è quello della scarsità di attestazioni epigrafiche che ovviamente non ci aiutano ad avere praticamente materiale tale da poter insomma operare con fronti più ampli. A questo punto le definizioni più o meno in gioco sono quella tradizionale di diciamo sono tendenzialmente tre alla fine cioè insomma si possono far risalire a tre filoni. Il primo è quello appunto più antico che risale alla fine dell'Ottocento ed è della scuola tedesca per cui l'italico viene comunemente semplicemente definito un ramo dell'indo europeo. Poi c'è in realtà chi è sceso un po' più nel dettaglio e qui si deve soprattutto alla scuola italiana quindi di un po' più recente, quindi di Devoto e relativamente recente di Devoto e Pisani per cui l'italico è praticamente tutto ciò che si è formato all'interno della penisola italica solo che fanno appunto coincidere questo italico soprattutto con il sabbellico che diciamo spesso si serve della dicitura osco-umbro quale sinonimo proprio perché ci sono delle affinità linguistiche tra l'osco e l'umbro che sono appunto le due lingue principali più un altro gruppo di lingue cosiddette minori insomma che condividono con queste due principali una serie di fenomeni in comune l'ultima però dicevo il problema di queste due definizioni è che comunque nell'una e nell'altra spiegano il motivo di eventuali divergenze o convergenze tra le varie lingue indoeuropee ovviamente dell'Italia antica perché come si ricordava prima giustamente c'è anche da dire che all'interno della penisola italica sono presenti anche lingue non indoeuropee prima fra tutte l'etrusco che comunque verrà chiamato in causa proprio per la formazione dell'alfabeto umbro a questo punto i problemi che queste due diciture generano sono appunto il primo legato a una difficoltà di classificare appunto tipologicamente le divergenze o le eventuali convergenze quindi anche se praticamente ai tedeschi insomma era così a cuore era così a cuore la classificazione anche la loro diciamo dicitura ad italico non risolve questo problema perché appunto l'italico originario dalla scuola tedesca è stato poi a sua volta proprio perché si sono anche loro resi conto di queste differenze è stato diviso in ulteriori due sottogruppi il primo genericamente definito italico occidentale che appunto avrebbe tra le sue il latino, il falisco ed il venetico e l'altro definito come italico orientale che avrebbe appunto tra le sue proprio l'umbro e l'osco che sono praticamente le due lingue principali il sabino e anche qui poi si potrebbe aprire una bella parentesi diciamo il sudbiceno ed altre diciamo lingue minori l'altro problema è appunto legato come già si diceva alla scarsa documentazione per cui appunto gli italiani ecco perché poi hanno mosso insomma la critica alla scuola tedesca formulando un'altra appunto definizione d'italico non si ritrovavano per cercare appunto di capire a quale cronologia perché in fondo potrebbe essere anche un problema cronologico far risalire le convergenze o le divergenze cioè in termini più semplici se questi contatti fossero diciamo un relitto queste affinità fossero il relitto di contatti avvenuti in epoca molto arcaica o piuttosto non fossero il frutto di contatti diciamo che avvenivano quotidianamente tra le popolazioni limitrofe e quindi in ultimo diciamo insomma quella che definizione che cerca un po' di conciliare potremmo dire capra e cavoli però insomma è stata quella di Domenico Silvestri il quale in fondo ha cercato di puntare più su un concetto politico che linguistico cioè dicendo che soprattutto a seguito della guerra sociale che comunque ha fatto prendere coscienza alle popolazioni tali che appunto di essere tali basti pensare anche alla leggenda monetale Safinim che si ritrova nella guerra sociale viene coniata appunto da questa compagine a predominanza osca vediamo che appunto per Silvestri è un concetto politico però Silvestri non si astiene dal diciamo collegare questo concetto anche al concetto di talico comune che appunto viene però definito come un insieme di fatti linguistici predocumentari che presentano sicuramente un elevato livello di coesione che possono essere frutto di convergenze appunto più arcaiche per lo più preistoriche o protostoriche e adduce come prove a favore appunto di questa sua nuova formulazione del concetto di talico il fatto che praticamente esista un'area che si può definire linguistica che si può definire area medio italica che appunto comprende generalmente le lingue osco e umbro sono i due estremi ma anche insomma le lingue minori che gravitano intorno all'area appunto laziale non solo ma che sono appunto praticamente marrocino, peligno, eccetera e inoltre egli sostiene anche che in quest'italico comune quindi si trovano delle leggi fonetiche che si trovano praticamente che non sono esclusive solo dell'italico stricto senso ma che si trovano anche nella tradizione latino-falisca e quindi ci deve essere stato comunque qualche contatto più arcaico questo che cosa comporta? Comporta che appunto come vi dicevo l'italico dovrebbe includere unitariamente al suo interno tutte le lingue attestate in quest'area linguistica medio italica e quest'area linguistica appunto comprende l'osco, l'umbro il sud piceno che si mostra più affine all'umbro anche per contiguità geografica e poi appunto queste tradizioni minori di cui vi ho accennato a questo punto bisogna definire definito appunto l'umbro il rapporto all'italico quindi è una lingua al pari delle altre vediamo cosa magari appunto è l'umbro se si vuole appunto confrontare anche con l'altra lingua a cui in genere è stato appunto abbinato quindi l'umbro è una variante dell'italico è la lingua che viene praticamente conosciuta principalmente grazie alle tavole guvine quindi rispetto all'osco potremmo dire che parte svantaggiata perché la documentazione di cui si dispone per quel che riguarda l'osco è notevolmente superiore ma di gran lunga rispetto a quella dell'umbro quindi ci può anche consentire effettivamente di fare un ragionamento più sistematico e di vedere effettivamente filoni di collegamento inoltre secondariamente nella lingua di poche altre località da cui appunto provengono le cosiddette iscrizioni umbre minori ed è appunto una lingua parlata dalle popolazioni cioè da una comunità ben precisa che abitava più o meno più o meno l'Umbria antica più o meno perché poi vedremo meglio facendo una focalizzazione sulla localizzazione delle scritture umbre delle grafie umbre che in realtà si estendono insomma anche verso sia a destra che a sinistra del Tevere andando a sconfinare cioè arrivando quasi appunto appunto all'ambire la sabina l'Umbro quindi non è una lingua equivalente all'osco né tantomeno è una varietà di atopica dell'osco cosa che invece la dicitura di osco-umbro potrebbe eventualmente indurre a pensare inoltre l'Umbro è monocentrico cioè appunto viene generato da un unico centro o almeno questa è l'immagine come si diceva che ci dà la documentazione mentre l'osco è policentrico cioè abbiamo appunto più centri che comunque contribuiscono alla formazione di una serie di varietà e anche di una serie di peculiarità che poi si riscontrano anche nelle iscrizioni inoltre l'Umbro è fortemente tendente all'innovazione fonetica e morfologica mentre l'osco è conservatore almeno per questo aspetto invece la situazione opposta giustamente si verifica sul campo semantico come appunto è fortemente innovatore l'Umbro per quel che riguarda la fonetica proprio per questo magari anche appunto per controbilanciare a livello semantico invece tende a conservare più a lungo il significato delle parole situazione appunto diametralmente opposta invece è quella che si riscontra nell'osco inoltre nell'Umbro appunto c'è la presenza di monotongazione cioè praticamente quel fenomeno per cui si tende a trasformare i ritonghi in un unico appunto suono vocalico mentre nell'osco si ha l'assenza di questo fenomeno nell'Umbro c'è l'assenza dell'anaptissi mentre nell'osco predominano le anaptissi inoltre nell'Umbro si assiste praticamente a un precoce indebolimento del sistema dei casi quello che poi diciamo noi noteremo ad ampio raggio appunto con la caduta di Roma e del latino per cui dopo si assisterà nel passaggio alle lingue romanze proprio alla perdita e all'indebolimento dei casi mentre l'Umbro inizia questo appunto processo già in epoca più antica mentre l'osco ha la tendenza esattamente opposta cioè tende a rafforzare il sistema dei casi qua c'è un'analogia sebbene il numero sia diverso invece è che l'Umbro si avvale di due diciamo grafie differenti l'una presa dall'alfabeto etrusco l'altra presa dall'alfabeto latino mentre l'osco ma qui dicevo una similitudine in fondo se ne avvale di tre una sempre presa da quella etrusca l'altro da quella greca e solo in un terzo momento e in modo più sporadico e anche meno permeante rispetto a quello dell'Umbro si ha l'uso della grafia latina a questo punto qui andrò rapidamente perché appunto poi dopo mettendo a disposizione il powerpoint e poi si ritrova anche insomma sul sito come insomma caratteri linguistici dell'Italia cioè dell'Umbro vado appunto a dire quali sono le caratteristiche che l'Umbro presenta in quanto lingua italica cioè appunto che ci sono un sistema eptavocalico che c'è la dominanza timbrica di edu che c'è una scimmillazione tra edo condizionata dall'accento presenta le sonore ma non le aspirate anche se qui ho scritto sul teta un punto interrogativo perché in realtà non è che all'aspirata però lo vedremo successivamente viene impiegato l'unico segno che diciamo nella grafia Umbra a base etrusca viene conservato è quello del teta che appunto non dovrebbe segnare un'aspirata però non viene nemmeno utilizzata per segnare la sonora che invece è assente nel diciamo alfabeto etrusco preso a modello ma che invece è un suono tipico delle lingue italiche poi appunto ci sono fenomeni di sincopi ma ripeto qui vado veloce la desinenza dell'accusativo la conservazione delle desinenze in os nel nominativo plurale dei temi no e in as di quelli dei temi na l'uscita in r delle forme passive la presenza della desinenza secondaria ns e così via tendenza alla palatelizzazione anche qui velarizzazione delle vocali lunghe tendenza all'assimilazione del gruppo n d n n che poi ritroviamo in fondo anche nei dialetti meridionali ancora oggi il passaggio da tl a cl all'interno di parola il passaggio del dittongo praticamente da un suono un po' più aperto a un suono più chiuso labio velari appunto che si trasformano e così via in questo caso invece se uno va a praticamente guardare le caratteristiche invece tipiche dell'umbro vediamo che ha la tendenza ad essere una lingua alquanto innovatrice anche se appunto a livello semantico conserva insomma il significato delle parole nel complesso presenta appunto una serie di fenomeni innovatori maggiori rispetto a quelli dell'osco inoltre non si notano le doppie e si nota la tendenza ad impiegare la H per esprimere la vocale lunga come si diceva c'è la tendenza alla perdita delle consonante finali che appunto anticipano e dimostrano questo indebolimento dei casi inoltre si nota altro fenomeno che va in questa direzione è il livellamento dei temi du del dativo plurale dei temi consonantici quindi insomma si perdono sempre più le differenze esatto poi c'è la palatalizzazione del suono sordo c'è appunto questo l'ho ripetuto chiedo scusa il passaggio appunto dalla dentale a un suono che non saprei nemmeno ripetere però insomma non è più una dentale ma assomiglia più alla retroflessa la presenza della monotongazione come già ho detto prima a differenza dell'osco più la naptissi la presenza della dominanza ma questo già anche qui insomma è una caratteristica generale dell'italico ma che comunque si trova marcata anche nell'umbro di nuovo una marcata tendenza alla palatalizzazione la presenza del rotacismo quindi anche qui differente notevolmente rispetto all'osco la trasformazione quindi già detto di intervocalica in questo suono appunto tra il palatale e il retroflesso e praticamente l'assimilazione del gruppo mb cioè in m anche qui le indoeuropee il passaggio delle indoeuropee la trasformazione in f delle antiche desidenze del nominativo singolare dei temi in r ed r la tendenza ad utilizzare sempre il pronome personale e poi alcune forme per il pronome personale delle forme ampliate e poi per esprimere quindi l'identità oppure a tematizzare in e il maschile e il neutro invece l'osco come ho riportato tende invece a tematizzare in i poi vediamo che anche qui per i temi na c'è la tendenza appunto al conguaglio formale inoltre c'è la tendenza ad ampliare il pronome personale corrispondente al latino is c'è la desinenza in esso e ner del genitivo singolare che dei temi no è in consonante formatasi per analogia con i temi ni la tendenza a privilegiare le posposizioni la presenza del prenome personale del tema exo rispetto al latino ic poi la tendenza ad ubicare il patronimico prima del gentilizio l'utilizzo di et come congiunzione quindi probabilmente con appunto contatto con il latino mentre l'osco ha questo inim la mancanza tra le possibili forme di perfetto di quella in doppia T che poi appunto è anche in fondo una forma tipica dell'osco quindi anche qui un'altra differenza la presenza della diatesi attiva e passiva regolarmente e poi come si diceva già insomma il sistema dei casi inoltre che quindi tendono a portare insomma l'umbro verso questa appunto agglutinazione che si vede proprio anche in questo uso di posporre poi alla fine una serie di elementi a questo punto se invece scendiamo nel dettaglio della scrittura umbra vediamo che è attestata tra il quarto e la prima metà del primo secolo avanti Cristo impiega due diversi sistemi di scrittura che come vi ho detto sono derivati da due diversi alfabeti cioè l'etrusco e il latino è attestata appunto nell'Umbria antica estendendosi come vi ho detto già sia ad est che ad ovest del Tevere fino alla Sabina quindi esclusa quindi ovviamente va a coinvolgere anche i territori che non sono solo insomma quelli dell'Umbria antica ma che coincidono anche insomma con le province di Rieti e di Viterbo e di Roma inoltre e questa è un'altra fondamentale differenza con l'osco impiega probabilmente contemporaneamente o almeno quasi da partire da una certa fase tanto la grafia etrusca quanto quella latina mentre nell'osco questa insomma contemporaneità magari si ritrova però si può ritrovare soprattutto in piccole località cioè insomma in località che magari hanno fatto scelte proprio di tipo politico cercando di manifestare apertamente la propria adesione alla politica romana mentre nell'Umbro diciamo questa focalizzazione non si ritrova a questo punto un attimo che perché non va ah già perché volevo far vedere praticamente le immagini tratte dal dal sito in cui appunto si vede la mappa della piantina cioè non è possibile neanche con l'altro computer sì grazie ok grazie perché che faccio crea un profilo non si è bloccato proprio perché 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 non ho capito perché vabbè ok vediamo se così gli piace senza presentazione eh non lo so però dico se gli piace lo stesso così aspetta facendo apri col tasto destro e poi faccio partire ci dovrebbe andare lo stesso ok ci siamo andati ce l'abbiamo fatta allora quindi per far vedere insomma la concentrazione delle dei documenti insomma di area umbra e successivamente anche insomma quindi si vede sono focalizzati all'Italia centrale mentre faccio partire la presentazione per un momento per quel che riguarda l'OSCO invece c'è appunto una non solo un'estensione maggiore ma anche praticamente un'area coinvolta molto più variegata e qui non è inclusa perché in realtà è al di fuori dell'Italia dato che sono appunto anche due attestazioni che vengono dall'area provenzale che quindi determinano anche un diciamo un'estensione al di fuori dei confini italiani delle attestazioni OSCHE cosa che invece non avviene per per l'Umbro successivamente allora presentazione scusate non è che mi fa ripartire da capo dove sta scusa ah ok sì allora poi dicevo se invece torniamo invece a parlare dell'Umbro a base etrusca vediamo che esso presenta una maggiore originalità e una maggiore complessità nei processi impiegati per adattare la grafia umbra la grafia etrusca alle esigenze dell'Umbro come anticipato e attestato dal quarto alla prima metà del primo secolo avanti Cristo ed è quindi per logica la diciamo il sistema di scrittura che è impiegato nelle iscrizioni umbre più arcaiche ha probabilmente impiegato quale modello principale di riferimento l'alfabeto etrusco settentrionale probabilmente il perugino secondo alcuni il cortonese secondo altri perché appunto si nota la presenza di un unico segno per indicare l'occlusiva velare mentre in quello meridionale o comunque di impronta ceretana noi abbiamo tre segni per la velare a secondo del grado di apertura della vocale e poi un altro elemento distintivo è la presenza del sun che appunto per esprimere la similante che è una prerogativa appunto tipica dell'etrusco settentrionale inoltre presenta però molte differenze rispetto ovviamente all'etrusco e anche qui faccio vedere appunto quali sono praticamente i simboli in generale dell'alfabeto praticamente umbro e ora scendo insomma vedendo in primis quali sono i caratteri quello e quello latino ma ora vi faccio vedere le differenze con l'umbro ci sono ora vedremo una serie di segni aggiuntivi che momento presentazione allora ecco questo invece è uno schema alfabetico che rivede comunque tutto praticamente l'umbro cioè l'alfabeto umbro che si avvale della grafia etrusca confrontato con la sequenza alfabetica dell'alfabeto etrusco settentrionale quindi si vedono dove ci sono gli eventuali vuoti che poi appunto vi spiego quindi vedete il discorso della sonora che è presente nell'umbro ma non nell'etrusco differenza anche nella forma di gamma anche per l'h diciamo così anche se ci sono appunto delle varianti nell'umbro che però si trovano nei documenti più antichi in particolar modo nel Marte di Todi e nella Lamina di Amelia che invece appunto ricalcano pienamente il modello etrusco laddove invece nelle tavole i guvine che sono comunque più recenti l'unica attestazione per H è data appunto dal cerchio cioè insomma barrato che ricorda più il teta poi anche qui nel teta abbiamo delle analogie sebbene siano presenti nell'umbro anche il teta vuoto lì siamo iota k insomma queste lettere sono di fatto uguali ma le differenze come vi dicevo iniziano ad esserci poi soprattutto nel fatto che l'etrusco ha completa la serie delle aspirate col fi e col chi che ovviamente non sono presenti nell'alfabeto umbro e a parte il suono insomma per cioè il segno per diciamo f che è ovviamente presente in entrambi l'umbro aggiunge ovviamente a fine sequenza alfabetica due nuovi segni che non ovviamente trovano corrispettivo fonetico all'interno dell'etrusco tornando alla presentazione quindi riepilogando in fondo già ve l'ho detto che appunto l'umbro ha la sonora b però non ha i segni per le sonore che comunque dovrebbe avere visto che ha la b cioè non completa la serie ma utilizza praticamente il segno della sorda quindi la t per esprimere praticamente sia il suono t cioè sia l'occlusiva velare sorda che l'occlusiva velare sonora anche qui lo stesso discorso avviene scusate la dentale sia l'occlusiva dentale sonora e sorda sia l'occlusiva velare sonora e sorda e come vi dicevo c'è la presenza del teta che però appunto non dovrebbe visto che è una lingua italica non dovrebbe appunto valere come aspirata ma dovrebbe avere un valore fonetico dovrebbe di t o di di allora poi come vi ho detto appunto inserisce questi due segni che sono assenti l'utilizzo del segno dove invece laddove l'etrusco ha diciamo let fatto a finestrella sebbene vi ho detto nei due documenti che infatti rappresentano però anche altre anomalie al di fuori di questa invece siano le uniche attestazioni inoltre c'è l'utilizzo del segno per u insomma simile alla v per c'è la nostra v per indicare appunto sia la vocale u che la vocale o quando invece questo perché ovviamente l'etrusco non ha la vocale però mentre l'umbro si inoltre il ductus è sinistro e le lettere non sono sempre segnate in modo regolare inoltre vediamo che la grafia appunto a base etrusca quindi ha anche elementi di similitudine l'abbiamo visto prima fra tutti il segno a otto poi appunto il segno a v che in questo caso è utilizzato già l'ho detto come per l'etrusco la presenza del sun che appunto indica una sibilante sebbene non sappiamo quale effettivamente diciamo suono preciso rappresentasse il sun dato che è presente anche nell'umbro il relativo segno per la sibilante normale quindi lì insomma comunque ci sono dei problemi di identificazione infatti come vi dicevo il sun praticamente potrebbe essere utilizzato per indicare magari la doppia per indicare la fregativa o semplicemente come variante grafica però ripeto non purtroppo non è possibile intervistare un umbro quindi insomma i margini di dubbio rimangono inoltre c'è praticamente anche come già vi ho accennato insomma l'uso del teta che anche qui insomma crea dei problemi perché se noi intendiamo appunto porre il teta come t ovviamente non capiremmo perché poi replicano lo stesso segno nella sequenza oppure ma è comunque non spiega perché non ci sia comunque un segno dedicato per esprimere la sonora e qualcuno invece insomma ha notato che però in almeno un caso il teta quindi forse questa potrebbe insomma approfondendo questa ipotesi si potrebbe andare a vedere se effettivamente la cosa si ripete forse il teta è stato utilizzato per rappresentare un diciamo un'evoluzione fonetica di un suono che originariamente era costituito da una nasale più una dentale quindi è una D diciamo di derivazione non originaria anche qui l'Umbro se vogliamo confrontare a quindi l'Etrusco e l'Umbro quindi notiamo che l'Umbro ha 21 segni ma solo 18 sono ascrivibili all'Etrusco che invece ne ha 20 inoltre inoltre conserva della sequenza delle aspirate appunto solo il segno per teta mentre l'Etrusco ovviamente le ha entrambe le ha tutte e tre inoltre non ha cioè l'Etrusco non ha i segni per le sonore mentre praticamente l'Umbro almeno ne conserva una sola pur utilizzando gli stessi diciamo cioè non ha i segni per le sonore ma tranne per la B utilizza diciamo le stesse tecniche dell'Etrusco in entrambi i casi si nota l'utilizzo di solo i quattro segni per rappresentare le vocali sebbene come abbiamo detto essendo lingua italica dovrebbe avere un sistema eptavocalico per cui almeno cinque vocali sono sicure che dovessero essere pronunciate inoltre l'Umbro rispetto all'alfabeto Etrusco appunto reintroduce il segno per B e lo reintroduce al suo posto originario perché deve comunque aver presente probabilmente anche la tavoletta di Marsiliana dal Begna poi c'è questa introduzione di questi due nuovi segni che però proprio perché percepiti come nuovi quindi come estranei la sequenza alfabetica vengono praticamente inseriti in coda e anche in coda al segno 8 che è già un'aggiunta dell'alfabeto Etrusco poi passiamo invece all'Umbro a base latina e vediamo che insomma è attestato dalla prima metà del secondo alla prima metà del primo secolo avanti Cristo e sembra quindi è più recente però quando appunto inizia ad essere attestato è praticamente come vi dicevo attestato pressoché contemporaneamente come sembrerebbe dimostrare insomma non solo la tavola che combina sebbene il numero 5 dove sono attestate entrambe le grafie sebbene si discuta se siano state apposte in tempi differenti ma si ritrova anche praticamente in altre iscrizioni minori inoltre altro elemento che complica l'analisi è che tutto sommato la lingua Umbra a un certo punto quando appunto viene presentata anche la grafia base latina presenta anche delle influenze lessicali da parte del latino quindi insomma ci sono anche dei contatti un po' più stretti inoltre altra cosa anomala che però induce gli Umbri a dover escogitare una serie di diciamo una serie di accorgimenti per rappresentare suoni che il latino non ha adotta praticamente il modello del latino in modo integrale senza apportare alcuna modifica tant'è che vediamo che appunto presenta il segno per G per indicare la sonora per D e fin qui sono quelli appunto semplici presenta anche qui l'uso della V per indicare come era già insomma sia il segno la V che la U presenta il segno la Q con la valenza di labiovelare non ha i segni ovviamente per esprimere quello che nella grafia Umbra era espresso dal teta ma abbiamo detto sia il teta che il san comunque non sono facilmente interpretabili a livello fonetico e poi per praticamente rappresentare il segno della grafia base etrusca che quello che sta praticamente in coda l'ultimo della sequenza utilizza praticamente un diacritico sulla S oppure per esprimere praticamente sempre il secondo segno di quelli aggiunti utilizza l'accortezza del digrafo RS inoltre ovviamente prendendo il latino il ductus destrorso e le lettere sono alquanto regolari però le problematicità che presenta come vi dicevo sono appunto l'uso e già ne abbiamo detto perché appunto sono pressoché contemporanei e addirittura dicevo nella tavola eguvina attestati contemporaneamente in che senso cioè sono scritti sulla stessa tavola poi se effettivamente la redazione sia stata contemporanea o diciamo sfalsata nel tempo il problema è quanto sfalsata nel tempo è di difficile diciamo soluzione perché insomma non vede tutti molto concordi e presenta praticamente le anomalie di cui vi ho detto cioè utilizzare i diacritici o per esempio utilizza la S insomma al posto della Z perché praticamente si rifà probabilmente ad un modello di latino in cui la Z non c'era però se avesse comunque avuto presente l'alfabeto magari a base etrusca avrebbe tranquillamente potuto riadattare senza evitare l'omografia tra due segni cioè S per indicare la sibilante ed S per indicare anche l'africata avrebbe potuto tranquillamente prendere dalla grafia a base etrusca se proprio appunto non la ritrovava nel latino la Z e poi come vi ho detto ci sono insomma anche delle altre anomalie comunque alcuni esempi il più famoso è il Marte di Todi dove vi dicevo si vedono insomma le peculiarità grafiche per cui è vero che è un'iscrizione umbra cioè c'è una lingua umbra però molti tratti tendono più dalla parte dell'etrusco che dalla parte dell'umbro a partire proprio dal simbolo grafico stesso discorso si può trovare insomma per qualche segno appunto anche nella lamina bronzea d'Amelia dove praticamente i segni qui si moltiplicano perché si trova la presenza dell'h fatta a finestrella si trova anche il di gamma praticamente utilizzato con cioè il di gamma fatta all'etrusca cioè quella con quella specie appunto di F ritornando cioè il di gamma alla greco e non il di gamma che viene comunemente utilizzato nell'umbro e si trova stranamente appunto il teta vuoto quindi tra l'altro ci sono insomma e non come appunto la prassi più usuale cioè col puntino tra l'altro sarebbe da approfondire perché molti di questi segni che si trovano in queste iscrizioni sono presenti anche in alcune iscrizioni da Ponte Cagnano però quindi insomma l'indagine sarebbe da da continuare poi si trovano attestati quindi su leggende monetali quindi famosa i cuvini non è che ce ne siano tantissime perché le testate sono per lo più insomma le più importanti due quelle da Todi con la leggenda su Todi e quella su appunto Gubbio e solo per rappresentare appunto la grafia a base latina il pezzo inferiore della tavola ai guvina numero 5 che è quella incriminata perché nella parte superiore ha anche appunto la grafia a base etrusca base in Marte di Todi insomma i casi problematici già ve li ho detti ma proprio per farvi capire ritorno al collegamento che come vi ho detto prima il teta tendenzialmente col puntino anche nell'alfabeto etrusco quindi questa è un'ulteriore anomalia rispetto all'etrusco non a caso vi ho citato Ponte Cagnano perché se ha preso quel segno dal modello etrusco dell'area settentrionale abbiamo queste due varianti ma teta vuoto a meno che Daniele non mi supporti non mi sembra di averne trovati ripeto ne ho trovati al momento solo nell'area di Ponte Cagnano poi come vi dicevo infatti io l'ho segnato lì tra parentesi perché tendenzialmente le attestazioni maggiore sono il di gamma classico che si trova un po' più regolarizzato anche nell'osco invece qui è prettamente segnato all'etrusca ma anche qui questo tipo di di gamma sarà perché comunque è il modello e quello etrusco ancora una volta si ritrova in Campania sempre nell'area di Ponte Cagnano e sempre e poi a Capua e puntino penso che sì no li ho detti tutti e tre ok erano le tre insomma principali anomalie della lamina di Amelia che ripeto in quest'ottica diventa anche più problematica rispetto al Marte di Todi perché il Marte di Todi è solo un'anomalia che però tra virgolette è regolarissima nell'area confinante la lamina di Amelia ha una serie di anomalie che non sempre si ritrovano nell'area confinante e quindi tavole e govine insomma riassumo quello che anche qui già vi ho detto cioè riguardano appunto la cronologia della loro redazione il rapporto che intercorre tra la redazione delle tavole in grafie etrusche e quelle in grafie latine perché cioè diciamo la teoria che vedeva praticamente le prime tavole in grafia umbra come cioè umbra intendo dire quella in base etrusca come le più arcaiche poi c'era questa tavola di mezzo insomma la 5 che creava un po' di problemi e quello che era stato redatto dopo quella che è stata appunto numerata come 5 cioè la 6 e la 7 dovevano successivamente essere stati appunto essere state scritte successivamente ma questa che doveva essere l'interpretazione più lineare per una serie di motivazioni quindi è stata messa in discussione proprio perché basandosi soprattutto su una serie di diciamo richiami contenutistici che invece legano tra di loro le tavole in modo differente qui non vi sto a tediare perché in realtà ha scritto ampiamente prosdocimi su diciamo su questa attribuzione quindi tra la bibliografia c'è anche il riferimento a prosdocimi quindi per chi fosse interessato rimando alla sua pubblicazione i supporti in cui cioè su cui si trovano insomma attestate le iscrizioni umbre ma ripeto sono pochissime sono per lo più la pietra il metallo dove per il momento abbiamo rinvenuto solo bronzo quindi non e quindi possiamo ipotizzare perché comunque in tutte le altre culture i vi compresa insomma quella osca si trova anche l'argento oro è quindi plausibile che forse insomma anche gli umbri abbiano utilizzato questo materiale però ripeto l'esiguità della documentazione delle attestazioni al momento ci deve obbligatoriamente far dire che abbiamo solo il bronzo e probabilmente anche qui un'altra serie di materiali magari non pervenutici a causa della loro deperibilità e poi qui rimando ai siti insomma di interesse generale documenti online istituzioni insomma centri di studio ricerca e bibliografia che sono presenti e questo è il link proprio sulla pagina di Mnamon che anche qui è interessante notare che tutto sommato pur andando a girovagare in internet anche qui rispetto all'osco ad altre lingue dell'Italia antica c'ha meno insomma i siti che parlano di Umbro sono pochissimi e magari spesso si richiamano l'un con l'altro quindi non diciamo ha una attestazione una diciamo presenza minore ovviamente rispetto alla lingua a cui è stato sempre accomunato grazie ci sono domande va bene sì sì no ma l'impressione è che in realtà i sistemi grafici del libro a base etrusca scritto con la scrittura etrusca siano più uno perché siano differenziati nel tempo ma anche i toti che da te nel quinto secolo ancora si si confrontano meglio con l'etrusco medionato possibilmente con la consinienza dove in realtà per esempio il pedacircolo è una cosa che al fine del sesto esiste più vicino e la cosa che stupisce è proprio il fatto che in realtà gli ubi prendono la scrittura dappertutto tranne che farne una propria salvo alcuni adattamenti che è ben illustrato che ci sono effettivamente prendono la scrittura del vicino ogni volta fino ad arrivare a quella latina che viene in poi posta senza modificarla cosa che invece non c'è nell'osco assolutamente infatti sì no nel senso è molto più consapevole anche nel scegliere è una cosa preziosa perché l'ascensore e la scelta grafica di solito è proprio una scelta identitaria gli ubi sembra quasi che aderiscono ai vicini cioè che non abbiano mai un'identità una cosa da approfondire dopo gli estuani c'è la fase arcaica in cui c'erano queste scritture tanto differenziate e tanto anomale e tanto particolari poi mancano un po' gli ubi del nord adesso ci sono ben poche attestazioni una cosa interessante che consiglio di vedere c'è un alfabetario di Perugia Roncalli è scritto qualche tempo fa che dovrebbe essere considerato come un alfabetario umbro e la parola abat che è stata considerata al nome dell'alfabetario in ritusco in realtà forse è il nome dell'alfabetario sì da approfondire perché c'è una situazione che in realtà poi mi ha pensato in vita per questo verso il nord grazie per la presentazione molto buona c'è una curiosità a questo proposito sì la tende in questa derivazione addirittura dalla scrittura cortonese dalla scrittura cortonese mi chiedono se non la ricordo male era anche praticamente nel no mi pare che era proprio datata mi pare che la presi da se mi sbaglio pure se mi sbaglio c'era qualcosa anche in prosdocimi sì infatti prosdocimi tendenzialmente era prosdocimi il minimo si fa forma di buro recente è importante in questo perché era tipicamente cortonese anche la diagonale non tante no però a parte quello perché comunque c'erano alcuni canali anche verso l'interno tra appunto l'area volsinese e l'area meridionale però la cosa interessante è che alcune cose si ritrovano magari a Ponte Cagnano che però non c'ha il contatto magari con l'area volsinese cioè non è più non è così diciamo evidente il contatto con l'area volsinese almeno a memoria mia quella sì però che sia dato che tu mi stavi suggerendo che era proprio specifico dell'area volsinese no quello sicuro per Marte di Totti sicuro però insomma la cosa interessante è che si ritrovava o insomma anche nell'area meridionale magari da capire come se è bene cioè magari il contatto con Volsini in genere almeno viene più visto verso Capua che verso Ponte Cagnano è vero che c'è l'area meridionale però sì però va bene allora dopo vado ad approfondire ci sono no ok grazie grazie a tutti grazie a tutti Grazie.